Mi scusi, ma ha qualcosa per migliorare il mio posizionamento sui motori di ricerca? No, non vi mettete in una situazione così, non è il posto giusto dove andare a domandare. Per fare le domande sul web publishing vai sul forum di Robin Good, è aperto adesso forum.masternewmedia.it Ti aspetto, ciao!